Ciao Diego, complimenti per il tuo primissimo posto. Dicci un po' come è andato questo torneo, cosa hai giocato e com'è andata. Questo torneo è andato abbastanza bene, non mi aspettavo che questo mazzo fosse abbastanza forte contro altri mazzi. Ho perso soltanto contro Earth of War, classicissimo. E mi sono ritrovato contro due powerbound. Sì, io TK. Ok, partiamo. Fermezza di ferro. Semplicissima, rende immune il mio gear frida a qualsiasi cosa. Come mostri abbiamo ovviamente tre gear frida. Come il pane si gioca. Classicissime anche loro. Però io gioco la variante Red Ice. Ah, altre due. Due Guildford Red Ice occhi rossi, due Guildford Red Ice, poi due cuccioli per line combo e mono Dragon Metallico Nero per techciare qualsiasi card Red Ice. Ottimo, bella pensata. Fortissimo. Magie. Buono offering. Limitata a uno, fortissimo. Ho tre book per le limitate a tre. Book ti salva da qualsiasi cosa. Mi sono stati molto utili contro i bound perché letteralmente facevo book su... su Golem, Golem finale. E vincevo... vincevo per... Perché poi danno l'annossario. Esatto. Poi abbiamo due rota, per serciare i Gritta, i Iron, i Gear Freed, scusate. Questo per quanto riguarda le magie. Per le trappole abbiamo classicissima colpo con catena, blast with chain, che sinergizza con i Gear Freed, qualsiasi essi siano. Poi abbiamo tre rovine, tre ruine fortissime anche loro. Vanno pesante. Esatto. E infine... Mono Spirito Occhio Rosso. Che in questo... in questo matchup, cioè diciamo in questi round non l'ho mai vista. L'avrò vista tipo una volta ma... è sostituibile tantissimo con la side. Quindi io la levavo di side e... e mettevo altro. Sì, ci sta. Mentre... L'extra troviamo... per ovviamente a Waking troviamo tre... End Dragoon... Proprio... E tre Draghi Minerali. Ok. Mentre la side abbiamo... Mono Waking. Perché l'extra deck è importante. Esatto. I set attrezzi del bandito, per negare. Corvo di Ghi per bandire da cimitero. Un vento perso. E due. Scambio creatura. Perfetto. Questo è tutto dal local multiplayer di Palermo. E la Dunninger saluta a tutti. Salutiamo anche Diego che ha fatto questo ancora una volta il primo posto. Il primo posto, assoluto. Esatto. Ciao a tutti e alla prossima settimana.